Toc toc! Chi è? Toc toc! Meno va! Troppo maturo, troppo vecchio salì! Troppo ambì! Forse più in l'alci duro! Perfetto! Tadà! WHAT THE FUCK?! Parfetto! Manca il dis auuteo. Che argomenti ti piacciono? Mmmh.. Ma certo! ¡Taco! Siz! Sono fof! Aerografo! Perfofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofof. ecco qui! Grazie. Ok! Lupi della not- Fatto! Guarda un po! Che ne dici, ehh?! Micidiale! Perché c'è anche un taco gigante? E perchè non dovrebbe esserci? Prova la 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 Che la mia stupida Che che la vedete Oh no Lady Furia no Devo salvare la fratellanza delle pa- Sua madre è me, i baresi Hai ragione Non mi mangerà aare! Lascialo stare! Forza ciccio, misa la tua pa- Oh ma non so co- Oh 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 Fai così! Che super Oh no Uncle Grandpa Sei 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 bra bra Ragazzo i bares Grazie Si 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 Prima regola della frata di pancia Non si abbandona ma 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 di pancia Forza un sciambella malatta Prima che arrivino i lupi Ai lupi Oh 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 Troppo tardi ai lupi Troppo tardi ai lupi I lupi Ambrose mi non lo sei RAAA H dormir OAAAA Oh no oży Saullo Non imagen Ma dove andiamo? Ma dove andiamo? Sono Siamo che ci siamo proprio I chengli Pceli-i-i-Taa-na-na-na HEAT SHOT Ragazzo, i lupi mangeranno me e mani, devi salva- va-va-va-va-va- Non so come fa- Usa la panchetta, ho fatto il- Tu sei Anka-Apner e io son Stagarlos No! Tu sei un fratello! Pronto? Sono Alberto Angela Perfetto ragazzo! Alla te- Sì! BASTA! BASTA! Ora è il mio turno O- 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 A- O- O- Grazie a tutti.